Giovanni Colzani, vengo da Treviso, per me il vino conta 8 su 10. Per me il vino al momento rappresenta uno studio, visto che faccio la scuola enologica conegliano e un programma di vita per il momento. Nasce da mio nonno che mi ha appassionato al vino e che poi ho coltivato questa passione.